L'ordine del giorno rega l'audizione in videoconferenza del Vice Presidente Vicario di Utilitalia, Filippo Brandolini. Partecipano all'audizione il Vice Direttore Generale, Paolo Giacomelli, e il Direttore Settore Ambiente, Luca Mariotto. L'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dell'attuazione della Legge 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente. In particolare la Commissione è interessata a conoscere quale sia stata l'effettività della legge e che cose eventualmente manchi per la sua piena efficacia, quali problemi applicativi eventualmente riscontrati e su quali aspetti la Commissione intende acquisire elementi informativi per i profili di competenza e conoscenza di utili d'Italia. La Commissione sta svolgendo attesino approfondimento sul tema dei flussi paralleli illeciti e l'abbandono dei rifiuti. Abbiamo appena iniziato questo nuovo film di inchiesta, con particolare riferimento ai rifiuti inerti, agli ingombranti, ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAE. A tal proposito è interesse della Commissione conoscere quali siano le criticità che l'attività svolta evidenziata ai fini della dispersione dei predetti specifici materiali, nonché quali iniziative sono in fase di attuazione per raggiungere il target europeo di raccolta. Comunico che gli auditi hanno preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. Quindi io invito il nostro ospite a fare una panoramica su queste tematiche appena dette e poi eventualmente io e i miei colleghi magari possiamo fare anche qualche relativa domanda di approfondimento. Grazie. Molto bene, grazie a voi dell'invito, di nuovo buona giornata a tutti. Speriamo di fornire, auspiciamo di poter fornire un contributo a questa vostra importante attività di indagine, anche se quanto potremmo dirvi fosse molto scarno, come potrete vedere dalle considerazioni che vi rappresentiamo. Vi anticipo anche che le considerazioni che vi rappresento oggi possiamo poi trasferire già nella giornata di oggi o tutt'al più domani in una nota compiuta in corso di finalizzazione. Prima di entrare nel merito una premessa, ci tengo a sottolineare che già nel 2015 Utilitalia, al tempo era ancora Federa Ambiente, prima della fusione di Federa Ambiente e Federa Utility per costituire Utilitalia, appunto, dicevo, nel 2015 sottoscrivemmo un appello congiunto che invitava il Senato ad approvare il disegno di legge che poi porterà alla legge 68 del 2015 in esame, al tempo il disegno di legge era stato provato dalla Camera ma giaceva appunto al Senato. Sottolineo anche che l'appello era stato sottoscritto da molti portatori di interesse, molte associazioni, molte persone individuali e tra queste, appunto, Federa Ambiente che a nostra conoscenza è stata l'unica associazione di imprese del settore rifiuti a sottoscrivere appunto quell'appello. Questo perché eravamo e siamo tuttora consapevoli della necessità che siano necessari strumenti legislativi efficaci per perseguire in modo incisivo l'evoluzione dei reati contro l'ambiente. Lo pensavamo allora e lo pensiamo l'ora. Fatta questa premessa è opportuno precisare che le associate Utili Italia sono imprese, come probabilmente molti di voi sanno già, che svolgono servizi pubblici di interesse generale, quindi nell'energia, nell'idrico e nel settore ambientale di gestione dei rifiuti. gestiamo questi servizi per conto dei comuni o degli enti di governo d'ambito e i servizi che possono essere maggiormente interessati da questa normativa sono appunto quelli che si occupano dei rifiuti. Ma precisiamo, sottolineiamo che alla luce del ruolo di queste imprese, delle imprese associate Utili Italia, evidenziamo che si tratta di realtà ben note nei territori che spesso hanno un profilo pubblico e si collocano, riteniamo che non potrebbe essere diversamente, sul versante della legalità con importanti riflessi sul loro valore reputazionale. Per questa ragione la nostra federazione, così come le associate, dispone di pochi elementi diretti per valutare a distanza di sei anni dall'entrata in vigore l'efficacia e i limiti della legge 68 2015 o comunque non disponiamo di sufficienti elementi per trarne un pur preliminare bilancio. Questo perché sostanzialmente la legge non ha impattato sul tessuto delle imprese associate Utili Italia, se non indirettamente, contribuendo a delineare in maniera più marcata il confine tra visibile e invisibile, quello specifico della gestione dei rifiuti tra flussi tracciati, quindi controllati, e flussi sommersi, tra società che operano alla luce del sole, che rispettano il complesso insieme di norme e prescrizioni in materia ambientale e realtà che operano nell'ombra. In altre parole il confine tra legalità e illegalità. Quindi formuliamo, come dire, in termini generali una valutazione positiva su questa norma, in quanto questa norma in qualche modo è stata utile per tracciare meglio il confine tra legalità e illegalità e quindi supportare anche le imprese associate Utili Italia che operano per le ragioni anzidette nella legalità. Il contributo che come associazione di operatori quotidianamente impegnati nella gestione dei rifiuti possiamo portare al dibattito riguarda quindi a questo punto l'altro lato del problema, e cioè non tanto come disincentivare gli illeciti ambientali, ma piuttosto come favorire la legalità più ampia possibile. Infatti, a partire dalla prospettiva privilegiata di chi opera, spesso svolgendo funzioni pubbliche, come si diceva, nella gestione dei rifiuti, Utili Italia ritiene che tra le misure più efficaci di contrasto alle legalità ci siano quelle volte a rendere semplice il rispetto e l'adempimento delle regole, dando valore agli aspetti sostanziali e meno a quelli formalistici dello spirito della norma, con un positivo riflesso anche sui costi operativi. Dopo questo profilo evidenziamo in particolare due aspetti. Nella gestione dei rifiuti, questo significa infatti dotare il nostro Paese di impianti necessari e soddisfare il crescente che ha bisogno di trattamento, di organizzare la disciplina di settore rendendola più intelligibile, coerente e stabile nel tempo, semplificare gli itero autorizzativi e regime dei controlli. Sappiamo che rispetto a questi ultimi temi c'è anche un importante impegno del Governo e del Parlamento in questa fase, anche legato al piano nazionale di ripresa e di resilienza. Per fare solo alcuni rapidi esempi, sappiamo bene, abbiamo già avuto modo di discutere in più occasioni, che il nostro Paese registra, per quanto riguarda i rifiuti urbani, un'apparente autosufficienza nel trattamento dei propri rifiuti urbani, grazie a un consistente ricorso allo smaltimento in discarica o alla strutturale esportazione di rifiuti da regioni privi di impianti verso quelle dotate di impianti. Si tratta in questo caso di soluzioni gestionali che non sono ambientalmente sostenibili né convenienti. La carenza di impianti in alcuni territori crea difficoltà per chi produce rifiuti, fa aumentare i prezzi di trattamento e rende più oneroso, sotto diversi profili, gestire correttamente i rifiuti, come anche aumentare lo spazio di manovra per chi, approfittando del differenziale di prezzo tra gestione corretta e lecito ambientale, ne lucra ampi profitti, anche a scapito di imprese in buona fede. Questo problema rischia di amplificarsi in prospettiva per traguardare gli obiettivi che le direttive europee sull'economia circolare hanno fissato al 2035 e in questa prospettiva l'Italia dovrà dotarsi di molti impianti di trattamento, sia delle frazioni oggetto raccolte e differenziata, sia delle frazioni residue. Analoghe riflessioni si possono fare anche per quanto riguarda i flussi di rifiuti non urbani, ovvero dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese, dall'industria e anche pericolosi, che sono ancora meno sotto l'attenzione del regolatore pubblico essendo affidati al mercato. Sappiamo che per certi flussi ci sono delle carenze impiantistiche importanti, sappiamo anche dalla lettura dei rapporti ISPRA quanto sia importante e tendenzialmente crescente di ricorso al trattamento di flussi di rifiuti in particolare pericolosi in impianti collocati all'estero. Lo stesso ministro Cingolani recentemente, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, ha evidenziato il nesso tra responsabilità della pianificazione, carenza di infrastrutture nazionali di trattamento e rischio di illeciti. E d'altra parte è ovvio che se mancano soluzioni legali di trattamento oppure se queste sono poche, distanti e costose, le organizzazioni criminali, come osserva il curatore del rapporto economico e dell'ambiente, hanno vita facile nel proporre servizi a pressi stracciati rispetto a quelli di mercato. L'altro tema molto rilevante rispetto alla maggiore legibilità della gestione legale dei rifiuti e quello legato alle norme riguarda l'intelligibilità della norma. La normativa ambientale, quella in materia di rifiuti in particolare, è generalmente complessa, non sempre coerente e spesso molto stratificata. Per capire come si deve operare occorre, cioè, saper coordinare più norme, anche di carattere molto tecnico, in continua evoluzione, se non contraddittorie. In questo contesto operare, secondo il dettato della legge, diventa difficile e spesso la mancanza di chiarezza lascia spazio all'arbitrarietà. È quindi evidente che una normativa più chiara, lineare, di facile accesso e interpretazione, contribuirebbe a dare certezza, a eliminare alibi, aiutando sia le imprese, sia gli organismi di controllo. Per fare due esempi che sicuramente sono ben noti ai componenti della vostra commissione, potremmo citare il caso della normativa sull'endo waste, o da ultimo il timore che stiamo esprimendo alle forze parlamentari rispetto a un emendamento che in questi giorni è in corso di esame nell'ambito della conversione del decreto semplificazioni sulla definizione di rifiuti urbani, che se accolta rischerebbe di portare a una deassimilazione di rifiuti urbani e quindi anche, oltre a intervenire nuovamente su un tema che era stato affrontato nel corso dell'anno scorso in occasione del ricevimento delle direttive afferenti al pacchetto dell'economia circolare, rischia di ingenerare confusione e incertezza sui territori e soprattutto di togliere importanti flussi di rifiuti dalla gestione dei rifiuti urbani e quindi ridurne il controllo da parte delle amministrazioni locali e regionali. Quindi fate queste considerazioni, però ci tengo a ribadire che riteniamo molto opportuno all'attività della vostra commissione e delle istituzioni più in generale rispetto alla verifica sull'applicazione della norma 68 2015 e come sistema di imprese rinnoviamo lo sbicio che questa analisi sia volta ad aspetti quali l'effettiva capacità generale preventiva e non solo su altri punti più strettamente giuridici e tecnici della norma, pur importanti quali quelli procedurali o di coordinamento con il codice penale. Rispetto al tema degli abbandoni sono, anche in questo caso ritengo di poter essere molto rapido, degli abbandoni di particolari flussi di rifiuti, riteniamo anche in questo caso molto importante l'attività che state svolgendo, il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti è un fenomeno che ci riguarda molto da vicino come sistema di imprese che si occupa della gestione dei rifiuti urbani perché l'articolo 183,1 lettera Bitter del 152 definisce come urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o locali e sulle rive dei corsi d'acqua. Questo significa che la gestione dei rifiuti abbandonati rientra nelle competenze dei comuni e quindi delle imprese che per conto loro gestiscono il ciclo dei rifiuti urbani. con anche i costi che si riverberano sulla gestione complessiva appunto dei rifiuti urbani o tramite tariffa o tramite specifiche poste che i comuni devono accantonare. L'esperienza maturata nell'ambito dell'erogazione di questi servizi suggeriscono l'importanza di alcuni fattori funzionali a prevenire e gestire al meglio il fenomeno degli abbandoni. Ne elenco alcuni molto rapidamente che poi potranno essere ulteriormente approfonditi. Per primo evidenziamo che un fattore importante riguarda la capacità di amministrazione del territorio. Abbiamo riscontrato, riscontriamo che in un territorio ben amministrato si riscontra maggiore senso civico da parte dei cittadini e una minore propensione all'abbandono dei rifiuti. Questo non toglie ovviamente la necessità di fornire un servizio efficiente e capillare che comunque di per sé è uno dei sintomi di buona amministrazione il cittadino e alcune tipologie di piccole e medie imprese e di itini individuali devono avere la possibilità di conferire in maniera agevolata tutti i rifiuti e anche tipologie più particolari diciamo meno convenzionali rispetto alla classica raccolta e raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Spesso la disponibilità di un servizio gratuito o comunque fornito in convenzione di facile accesso capillarmente distribuito sul territorio è un importante elemento di prevenzione del fenomeno degli abbandoni. Questa è una considerazione di carattere generale che possiamo declinare anche in maniera più specifica evidenziando per esempio l'importanza dei centri di raccolta i centri di raccolta garantiscono un servizio al di fuori degli orari calendarizzati per le raccolte domiciliari per esempio o anche per raccogliere particolari tipologie di rifiuti che vengono raccolti sul territorio o attraverso le raccolte domiciliari appunto come possono essere quelli che prima si citava i piccoli quantità di inerti per le cosiddette attività tra i datè nell'ambito delle abitazioni o gli stessi rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche o determinati flussi di ingombranti. Quindi i centri di raccolta integrano sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo i servizi di raccolta di rifiuti dei territori e sicuramente una loro maggior diffusione può contribuire a prevenire fenomeni di abbandono o di questione non corrette di particolari flussi di rifiuti. Per esempio andando a leggere i rapporti che pubblica il centro di coordinamento RAE è quello che si occupa al punto della raccolta di RAE e si evidenzia che i tassi di raccolta sono maggiori laddove c'è una maggiore presenza capillare di centri di raccolta. Tant'è vero che una delle attività che congiuntamente facciamo nella gestione dell'accordo sulla gestione di RAE è quella di favorire il finanziamento dei centri di raccolta in quei territori che ne sono sprovvisti o quantomeno carenti. Un secondo aspetto che in qualche modo l'ho già tracciato può essere quello di attivare servizi gratuiti di micro raccolte di particolari tipologie di rifiuti come per esempio dell'amianto per le utenze domestiche. Un ultimo fattore che evidenziamo in questa sede che riteniamo importante per limitare il fenomeno degli abbandoni riguarda anche le politiche di contrasto all'illusione e all'evasione tari. Ci sono infatti evidenze che dimostrano come i soggetti più propensi all'abbandono dei rifiuti siano proprio quelli che in quanto illusori o evasori non possono accedere al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. È indubbio che le efficaci politiche di contrasto all'illusione e all'evasione tari avrebbero benefici anche sul fronte della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti. Un'ultimissima considerazione a titolo di esempio per tornare sul tema dei RAE riguarda non tanto i RAE di più grandi dimensioni ma i piccoli RAE che da alcuni anni sono affidati appunto alla gestione del centro di coordinamento RAE quindi dei consorzi obbligatori che si occupano dei RAE ma che per loro dimensioni dal telefonino alla lampadina all'attrezzatura elettrica dismessa spesso non vengono correttamente gestiti perché casomai vengono conferiti nel rifiuto indifferenziato. Ecco, sotto questo profilo è importante integrare i servizi di raccolta che svolgono le aziende associate utili d'Italia con altre modalità di raccolta per esempio attraverso opportunità offerte nei punti vendita o nei supermercati della grande distribuzione attraverso il rapporto dell'uno contro zero ovvero favorendo così come si fa in tante realtà per i medicinali scaduti presso le farmacie favorendo presso i punti vendita la raccolta di questi piccoli RAE che difficilmente verrebbero conferiti nei centri di raccolta perché nei centri di raccolta si accede per importanti volumi generalmente per importanti volumi di rifiuti e naturalmente sotto questo profilo è importante anche il ruolo dell'informazione ai cittadini dell'informazione anche agli studenti pensando anche eventualmente a iniziative che coinvolgono gli stessi istituti scolastici questo è quanto vi ringrazio l'attenzione il sottoscritto e i colleghi Mariotti e Giacomelli sono a disposizione per eventuali approfondimenti ok se c'è qualcuno che deve intervenire attualmente non c'è nessuno ok allora innanzitutto alcune domande ah si è prenotato Zolezzi prego onorevole Zolezzi grazie grazie ringrazio davvero gli auditi e io mi sto occupando proprio del decreto semplificazioni concordo con quanto è stato detto su rischio legato a una deassimilazione non regolamentata purtroppo in questa fase il primo passaggio in commissione quell'emendamento lì purtroppo lo ha fatto insomma a parte chi l'ha votato adesso non è questa la sede però purtroppo quell'emendamento lì sta andando avanti tra l'altro con effetti assolutamente non non chiari su tutta una serie di norme che erano appunto collegate soprattutto rifiuti che non avevano che non hanno niente di complesso perché poi insomma rifiuto speciale è una definizione molto ampia e quell'emendamento rischia adesso anche bisogna capire a valle quante norme modificherà secondo me non è stato compreso neanche da chi lo ha presentato adesso stiamo facendo una verifica legislativa per capire cosa comporta un conto appunto lasciare una facoltà un conto è prescrivere una deassimilazione comunque tra l'altro appunto rischierà di aumentare la filiera allungare ancora di più la filiera di gestione dei rifiuti e anche far circolare dei rifiuti che non hanno avuto nessun pretrattamento e magari avviarli a dei recuperi energetici un po' spinti questo era un commento e volevo chiedervi per quanto riguarda il riciclo accennato Presidente anche al discorso del famoso articolo 184 Ter che sappiamo bene modificato nel 2019 però mi risulta che un pochino anche parlando con alcune imprese che adesso un pochino quella norma era stata compresa anche perché riciclo non è una cosa semplice devo dire che un rifiuto si trasforma in materia per cui questa valutazione a campione ex post apparentemente è stata compresa e accettata perché sono 335 domande di riciclo caso per caso molte di più rispetto agli anni precedenti anche precedenti all'entrata in vigore di questa norma per cui volevo capire se a voi risulta qualche cosa di diverso dal punto di vista operativo non solo filosofico capisco che una burocrazia è un rischio di un controllo ex post possa essere non valutato con tranquillità da chi deve investire e fare impresa lo comprendo ma nello stesso tempo secondo me visto che molti stavano comunque chiedendo le autorizzazioni forse il mondo dell'impresa stava riuscendo a comprendere la razza e come dire quando manca il decreto ministeriale per quel flusso di rifiuti proviamo comunque a darti l'autorizzazione caso per caso ma dammi la possibilità di vedere che tu non faccia un false non waste anche perché purtroppo di casi ce ne sono ancora molti e con la formulazione precedente al decreto semplificazione si riusciva anche a impostare un'eventuale prescrizione valutazione dell'avempimento delle prescrizioni adesso in teoria non c'è più questo strumento ma non so chi se ne gioverà di questa diciamo di questa che qualcuno definisce semplificazione comunque volevo chiedere un po' un commento a voi per capire sì c'era un limite però questo numero di domande così elevato a me sembra che un modo per dire che l'impresa stava rispondendo stava chiedendo di riciclare anche con quella norma precedente l'ultima cosa sui gesti di defecazione noi abbiamo fatto una risoluzione nel 2017 in Commissione Ambiente alla Camera utilitaria in qualche modo si era espressa per lasciare inalterato quel tipo di gestione dei fanghi di depurazione e le inchieste recenti in qualche modo hanno un po' gettato una luce un po' sinistra sulla produzione dei gesti in molte realtà italiane non in tutte chiaramente e volevo chiedere insomma voi come reagirete se poi in qualche modo come sembra almeno in parte verrà modificata l'attuale norma di far entrare i fanghi nei fertilizzati quando entrino a far parte dei gesti se in qualche modo è una cosa che può essere accettabile se può avere una sostenibilità grazie Presidente rispondiamo di volta in volta o alla fine ok grazie grazie l'onorevole Zolezzi molto rapidamente sui tre punti sul primo punto naturalmente siamo a disposizione anche al di fuori diciamo di questo tipo di riunioni come federazione sottoscritto come colleghi collegati per fornire valutazioni rispetto all'impatto della nuova norma dell'emendamento che se fosse definitivamente approvato produrrebbe sulla gestione dei rifiuti o riteniamo che possa produrre sulla gestione dei rifiuti segnaliamo che la stesura così come l'abbiamo letta e interpretata fino a questo momento farebbe sì che al di là dei rifiuti prodotti nelle abitazioni i cosiddetti rifiuti domestici tutti gli altri rifiuti sarebbero rifiuti assimilabili in assenza però di criteri di assimilazione quindi affidati al mercato con evidenti complessità organizzative e soprattutto riorganizzative e con potenziali impatti sulla tari sulle tariffe rifiuti nei vari territori anche molto importanti quindi auspichiamo che possa essere riconsiderato o quantomeno ponderato e mitigato l'effetto di quell'emendamento la norma così come era stata costruita pur con qualche elemento di difficile interpretazione su cui però successivamente è intervenuto il ministero però aveva un impianto in sé coordinato e figlio di una logica se si modifica può bastare modificare una parola o un termine per fare cadere la tenuta di tutto quell'impianto quindi questo è il messaggio che vi trasferiamo e siamo disponibili in questa sede ma più propriamente anche in altre sedi ad entrare maggiormente nel merito se lo è ovviamente opportuno secondo tema tema dell'endowaste per intenderci rapidamente dell'articolo 184 io ci tengo a precisare un aspetto anche in coerenza con le considerazioni che vi ho rappresentato all'inizio il sistema di imprese che aderisce Autoritalia è un sistema di imprese che è fortemente favorevole affinché ci siano dei controlli sulle attività di gestione dei rifiuti controlli seri controlli rigorosi e non controlli per dire che si è fatto il controllo questo perché come dicevamo dicevo prima riteniamo di essere imprese che operano nella legalità e la legalità favorisce sicuramente le imprese sane e in un contesto in cui il rifiuto passa di mano in mano perché sono necessari i vari fasi di raccolta gestione trattamento poter contare su controlli efficaci che garantiscono coloro che legalmente operano in una fase di gestione di rifiuto sicuramente aiuta appunto le imprese del nostro sistema fatta questa considerazione noi manteniamo le forti riserve sul fatto che ci siano dei controlli non tanto sull'attività anzi non sull'attività quanto su quello che è stato diciamo il percorso nell'iter autorizzativo perché questo rende incerto appunto l'iter autorizzativo sia nei tempi sia negli esiti e quindi questo crea sicuramente un'incertezza che può in qualche modo dissuadere l'investore l'impresa a investire dei soldi su una determinata iniziativa quindi ci piace nel forse è diventato uno slogan però è anche una necessità ci piace poter fruire di percorsi semplificati chiari e anche sufficientemente rapidi la rapidità non deve ovviamente limitare la possibilità di un'istruttoria completa ed efficace ma la rapidità deve cercare di rendere efficiente il processo e una volta avuta l'autorizzazione poter sviluppare l'iniziativa su cui come dicevo prima riteniamo importanti che ci siano dei controlli perché la distinzione che dobbiamo fare è tra corretta gestione dei rifiuti legale gestione dei rifiuti e non corretta gestione dei rifiuti e illegale gestione dei rifiuti considerazioni di questo genere la posso utilizzare anche sul terzo argomento ovvero quello dei gessi di defecazione i gessi di defecazione sono un end of waste di fatto non solo di fatto anche nella sostanza sono normati da un decreto ministeriale del ministero dell'agricoltura e i gessi di defecazione hanno funzioni di sostituzione di fertilizzanti artificiali utilizzando i fanghi di depurazione come diceva lei onorevole Zolesi ci sono gestioni corrette e non gestioni corrette riteniamo che i gessi di defecazione siano una opportunità interessante e importante non solo per gestire i fanghi ma anche per l'agricoltura perché restituiamo contenuto organico ai nostri terreni che ne hanno sempre più bisogno il legislatore e l'autorità competenti nei controlli devono riuscire a perseguire quelle gestioni che non sono legali che non sono corrette per fare un esempio senza entrare troppo negli aspetti più direttamente tecnici negli impianti dei gessi che producono gessi di defecazione da fanghi devono entrare fanghi che già di per sé hanno le caratteristiche per andare direttamente in agricoltura questo è quanto viene nelle realtà diciamo più avanzate e che non hanno mai avuto problemi sotto questo profilo non devono entrare fanghi che non hanno le caratteristiche adeguate perché allora sì che a quel punto si può creare un danno all'ambiente e ai terreni facendo delle operazioni non corrette quindi si tratta di stabilire bene le norme che si ritiene che non siano sufficientemente chiare e precise si può intervenire le caratteristiche dell'inputo ovvero del fango in ingresso all'impianto che produce il gesso di defecazione tutti quelli che devono essere le fasi di controllo anche le fasi diciamo di tracciabilità di verifica esposte quindi le destinazioni i terreni cui sono destinati i gessi ma riteniamo un errore limitare o vietare del tutto questa opportunità diciamo di processo questa opportunità tecnologica rispetto al trattamento dei fanghi muovendo da una considerazione poi Presidente mi prendo altri 30 secondi ma non voglio monopolizzare sul tema dei fanghi però il tema dei fanghi è un tema molto delicato dobbiamo essere consapevoli che nei prossimi anni quando saranno portati a regimi processi di depurazione ci saranno maggiori quantità di fanghi da trattare i fanghi per loro natura non possono non devono è inopportuno che vengano trattati smaltiti in discarica essendo materiale biogenico biodegradabile quindi provano impatti nella gestione di discarica ma ci sono normative anche nazionali molto serrate su questo aspetto quindi la gestione dei fanghi non può che avvenire o attraverso l'utilizzo in agricoltura ovviamente con tutti i controlli del caso i gesti di edificazione sono sotto questo profilo un'opzione ma i fanghi possono andare anche senza essere senza diventare gesti di edificazione in agricoltura l'importante è che rispettino determinati requisiti di qualità e vengono sottoposti a attività e condizionamento e controllo o altrimenti i fanghi devono essere sottoposti a processi di trattamento termico sapendo che sul trattamento termico oltre a tutte le difficoltà di carattere sociale andiamo ad incontrare una situazione di deficit impiantistico poi rispetto a questo si può aprire un ulteriore capitolo a livello europeo si sta molto ragionando sulla possibilità di recupero del fosforo dai fanghi di depurazione ma non direttamente dei fanghi ma dalle ceneri dei fanghi di depurazione che sono stati trattati in un impianto di incenerimento dedicato quindi sicuramente tralasciando la discarica abbiamo due opzioni differenti che noi riteniamo debbano e possano essere perseguite entrambi ma sul fronte diciamo dei controlli e delle norme rigorose noi siamo perfettamente allineati d'accordo Senatore Lumodi Sì eccomi grazie Presidente grazie Dottor Brandolini per la sua disponibilità pur consapevole dell'ampia diffusione della criminalità organizzata nel settore della gestione dei rifiuti ritengo che lo strumento repressivo come la legge 68 del 2015 debba svolgere un ruolo residuale rispetto a quello primario che è quello appunto della prevenzione degli illeciti ambientali lei ritiene che la 68 del 2015 costituisca l'unico mezzo di repressione delle attività illecite nel settore dei rifiuti o che tale strumento possa essere diciamo così affiancato anche dall'attività di prevenzione tesa a sensibilizzare le imprese verso il rispetto della legalità in materia ambientale e in caso di risposta affermativa quali sono le iniziative che utilitaria ha posto in essere o ha in programma che possiamo porre in essere presso i propri iscritti al fine di realizzare la già citata attività di prevenzione dei reati ambientali utilitaria poi annovera imprese una domanda se utilitaria annovera imprese iscritte che siano state coinvolti in fatti di criminalità ambientale in caso di risposta affermativa quale tipologia di reati ambientali è risultata più frequente dal 2015 ad oggi una domanda un po' più specifica territoriale cosa vi può riferire circa la situazione specifica della Basilicata relativamente ai quesiti precedenti grazie grazie rispetto alla prima domanda sicuramente questa come dicevamo dicevo nel mio primo intervento è una norma importante che ha dimostrato elementi di efficacia e poi attendiamo anche le vostre valutazioni per una disamina diciamo più completa e più approfondita stante la parzialità del nostro osservatorio è una norma che è importante ma non l'unica per importanza riteniamo che sia altrettanto importante sia l'atto prevenzione ma sia anche l'atto diciamo per seguire i reati una piena e corretta applicazione per esempio della norma afferente al 231 del 2001 che riguarda non solo il settore dei rifiuti ma riguarda tutte le società ed è in qualche modo una regolazione interna delle attività per fare in modo che vengano prevenuti il compimento di reati nell'ambito di società a vantaggio delle società ma come dicevo all'inizio e quindi io sono d'accordo con la sua considerazione sono fondamentali anche le attività di prevenzione le attività di prevenzione non sono solo sull'aspetto normativo ma sono in generale le attività che possiamo declinare nella nostra quotidianità noi come gestori del ciclo di rifiuti ma più in generale le istituzioni sono sintetico ma nello stesso tempo parto da lontano per esempio è molto importante per perseguire la legalità che ci sia innanzitutto da parte delle istituzioni ma nel nostro piccolo anche noi gestori un rapporto franco e trasparente con i cittadini con i cittadini amministrati con i cittadini utenti nel senso che i cittadini dobbiamo rappresentare quelle che sono correttamente sulla base di conoscenze tecniche e scientifiche quelle che sono le opzioni disponibili purtroppo nel corso degli anni ci sono state delle messaggi semplificati o superficiali che hanno teso a concentrarsi su un singolo aspetto nella gestione di rifiuti tralasciando gli altri lo dico senza alcun intento polemico critico nei confronti di alcuno ma proprio per sottolineare come spesso il dibattito pubblico sotto questo profilo si è stato dannoso e ci siamo concentrati sulla raccolta differenziata dei rifiuti e spesso è passato un messaggio che basta fare una buona raccolta differenziata per fare una buona gestione dei rifiuti mentre sappiamo bene che la raccolta differenziata è un indice di buona organizzazione del servizio di determinazione anche politico amministrativa dell'ente locale che decide di attivare la raccolta differenziata di buona amministrazione buona gestione da parte del soggetto gestore di buona partecipazione ai cittadini di buon senso civico perché c'è un obiettivo generale complessivo ovvero la tutela dell'ambiente però sappiamo bene che la raccolta differenziata rappresenta questo ma non rappresenta un indice ambientale non corrisponde all'indice di riciclo sappiamo bene che i rifiuti dopo la raccolta differenziata hanno bisogno di impianti di trattamento per il riciclo sappiamo bene che producono dei residui che necessitano di impianti per il loro trattamento e quindi dobbiamo in qualche modo raccontare rappresentare ai cittadini o ai nostri clienti utenti se parliamo delle imprese che il ciclo di gestione dei rifiuti comprende varie fasi come anche quella un po' più scomoda un po' più difficile sotto il profilo dell'acquisizione del consenso degli impianti non sono solo gli impianti diciamo più come dire su cui maggiormente si concentra attenzioni come può essere un termo valorizzatore o una discarica ma anche gli impianti di riciclo come possono essere gli impianti per il trattamento del rifiuto organico su cui spesso si concentrano attenzioni negative da parte dei cittadini ma perché in generale il sistema istituzionale non è stato efficace nello spiegare le scelte che vanno compiute per una corretta gestione dei rifiuti per fare un esempio banale dobbiamo saper spiegare ai cittadini che se fa la raccolta differenziata del rifiuto organico o a Roma o a Napoli non cito due esempi a caso fanno una buona cosa ma il loro impegno viene in parte sminuito dal fatto che quei rifiuti in gran parte non sono trattati vicini al luogo di produzione raccolta ma vengono trattati in impianti del nord-est del paese questo significa che la gestione di quei rifiuti produce impatti in termini ambientali oltre che economici importanti e quindi riduce diciamo il beneficio dato dalla attività di raccolta differenziata quindi un primo tema di informazione educazione sensibilizzazione corretta e trasparente poi ovviamente come dire ci vuole una buona organizzazione dei servizi e ci vuole un sistema impiantistico che sia in grado di gestire i rifiuti secondo quelli che sono i fabbisogni ma che sia anche come dicevo prima meglio distribuito sul territorio nazionale parliamo sempre di rifiuti urbani ma ovviamente riflessioni analoghe possono riguardare anche i rifiuti speciali sicuramente questo diciamo una gestione più efficace più vicina al produttore dei rifiuti consente di elevare il tasso di legalità perché poi abbiamo visto che gestioni industriali efficienti sono gestioni che hanno un impatto in termini di costi inferiore rispetto a quelle che sono gestioni meno efficienti con minor dotazione di impianti semmai non industriali perché frammentate con tante gestioni da parte dei comuni in economia quindi questo noi riteniamo che possa essere uno degli strumenti più importanti per prevenire il fenomeno delle gestioni illegali dei rifiuti peraltro voglio dire abbiamo il contributo importante del rapporto con mafia di lega ambiente che in qualche modo ci rappresenta bene quelle che sono le maggiori criticità sotto questo profilo per quanto riguarda le domande successive noi abbiamo fatto una ricognizione presso le nostre imprese prima di partecipare a questa seduta della vostra commissione per raccogliere valutazioni su queste norme valutazioni esperienze non abbiamo registrato nell'ambito dei commenti ricevuti esperienze dirette rispetto all'applicazione di questa norma non posso escludere che non ci siano state ma non siamo stati in grado di raccogliere anche perché probabilmente le imprese oppure le nostre associate mantengono la riservatezza in questi casi e poi bisogna sempre valutare anche laddove ci siano accaduti degli episodi se diciamo l'iter processuale si sia già completato o meno e quindi non sono in grado di dare risposta in questo senso così come poco possiamo dire rispetto alla realtà della Basilicata in cui abbiamo se non ricordo male solo una o al massimo due imprese associate ricordo sicuramente quella di Potenza e forse c'è un'altra impresa in un'altra circola realtà della regione ma vado a memoria e quindi non siamo in grado di dare valutazioni particolarmente compiute e specifiche su quella regione so che la la nostra associata di Potenza è coinvolta in un processo di aggregazione con altre gestioni comunali o aziendali del proprio territorio questo riteniamo serve un processo importante che se ci verrà richiesto supporto supporteremo senz'altro perché consente di aumentare il tasso di industrializzazione dei servizi e quindi rendere diciamo maggiore coerenza rispetto agli auspici che prima vi rappresentavo bene io ringrazio sempre di Italia e poi abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme quindi apprezzo anche lo sforzo per quanto riguarda gli abiti usati su un percorso di trasparenza della filiera per quanto riguarda invece il tema dei flussi illeciti dell'abbandono dei rifiuti non so io avevo in mente di farle alcune domande però nel senso mi servivano dei dati io speravo non so se voi essendo le vostre imprese facendo questi servizi ecco per esempio visto che come giustamente ha detto prima di raccogliere rifiuti abbandonati se ne occupa il comune che si rivolge a voi diciamo così a queste imprese che fanno questo servizio che ovviamente è extratari quindi non so se voi avete una una stima di quanti le vostre imprese insomma di quanti soldi prendono per questi servizi di extratari dove questi fenomeni di raccogliere a volte extratari sono più sviluppati in quale immagino nelle città insomma metropolitane quali sono insomma se possiamo avere anche nei prossimi giorni non so qualche dato a riguardo per quanto riguarda le ristrutturazioni se il fenomeno è in crescita dove è più in crescita per quanto riguarda anche sull'abbandono etile se in qualche modo l'eco bonus sta aumentando favorendo questo fenomeno se ancora è presto per dirlo io nella legge dell'eca europea del 2018 avevo fatto introdurre una sperimentazione che credo che sia appena partita non so se ne siete a conoscenza per esempio che dà la possibilità a chi vende il materiale di ricevere quando insomma l'attività commerciale viene a comprare questo materiale di ricevere a titolo gratuito e senza neanche tanti controlli senza i controlli fiscali sulla sulla regolarità o meno dell'impresa etile questo appunto proprio per non scoraggiare diciamo così nessuno così non ha più nessuno ha più scuse insomma puoi riconsegnarlo gratis lì dove tu vai stesso a prendere il materiale se avete notizia insomma di questa sperimentazione o meno e se pensa che possa in qualche modo favorire il contrasto a questo fenomeno dell'abbandono e se ipotizzare anche nuove norme per quanto riguarda anche una demolizione selettiva in modo tale da favorire la diversificazione dei materiali e quindi la corretta gestione filiera insomma in questo modo state è ipotizzabile fare qualcosa per contrastare questo fenomeno ma sì sicuramente possiamo provare non possiamo provare facciamo una indagine interna quindi chiediamo le associate qualche dato quantomeno da un campione rappresentativo rispetto a quelli che sono i costi dei servizi o inclusi nell'atari o extra-atari legati agli abbandoni o ai depositi abusivi rifiuti negli anni scorsi qualche cosa si era fatto in ambiti aziendali sicuramente proprio perché impattano in maniera importante appunto sui costi di gestione del servizio e questi dati sono anche utili per rappresentare i cittadini che un corretto conferimento consente anche una riduzione di costi quindi prendiamo l'impegno per chiedere qualche dato chiedendo la collaborazione delle nostre imprese e sicuramente ve lo forniamo per quanto riguarda il tema delle demolizioni noi diciamo sono flussi che su cui diciamo le nostre imprese sono meno coinvolte la gestione degli inerti riguarda più altri settori ma per quella che è la nostra diciamo sensibilità e cultura di impresa siamo sicuramente favorevoli e interessati al fatto che vengono sviluppate le demolizioni selettive perché le demolizioni selettive riducono le quantità di rifiuti che devono essere smaltite perché casomai non è non è possibile recuperare l'inerte in quanto appunto contaminato da altri rifiuti e soprattutto consente di recuperare altri materiali pensiamo in particolare ai metalli che sono che hanno valore e sono materiali che possono ridurre l'utilizzo di materie prime verze quindi le demolizioni selettive sicuramente sono un elemento interessante e sicuramente c'è da fare un lavoro importante in generale sui rifiuti inerti da demolizione perché già ora i tassi di recupero sono importanti ma ci sono dei margini di miglioramento e il recupero degli inerti peraltro consentono anche in questo caso di ridurre l'utilizzo di materiali di materie prime vergine devo sottolineare che stiamo affrontando non senza qualche difficoltà a seconda dei territori alcune difficoltà proprio sul tema delle demolizioni così come anche degli sfalci e potature perché una lettura a nostra opinione un po' troppo stringente della nuova definizione di rifiuti urbani fa sì che l'accesso per esempio ai centri di raccolta sia limitato alle operazioni sia di potatura del verde domestico sia di lavoretti fai da te che generano macerie alle lavorazioni appunto fai da te quindi dell'utente domestico del singolo cittadino che si fa le lavorazioni da solo e con una proprio mezzo porta conferisce questi rifiuti nei centri di raccolta mentre in diffusamente forse non in tutta realtà ma diffusamente prima di questa nuova definizione di rifiuti urbani che ora viene interpretata in maniera molto restrittiva era possibile che questo tipo di conferimento potesse essere svolto anche dalla impresa dal giardiniere che fa l'attività di potatura o dalla impresa edile che fa la piccola attività edile nell'abitazione e quel rifiuto poteva mantenere un regime urbano o comunque assimilare all'urbano e poter entrare nel centro di raccolta sicuramente questi piccoli aspetti diciamo che non sono piccoli normativi possono contribuire a limitare il fenomeno degli abbandoni stiamo parlando di quantità più o meno residuali ma che se dovesse essere abbandonati sul territorio sicuramente comporterebbero dei costi di gestione maggiore anche su questo aspetto se diciamo l'attività del 110% siano in qualche modo comportando un aumento di rifiuti abbandonati sul territorio cerchiamo di avere qualche elemento informazioni di tendenza da parte delle nostre imprese associate anche se devo sottolineare che trattandosi di operazioni che comunque devono essere certificate rispetto anche all'accesso ai benefici del 110% mi verrebbe da sottolineare che i casi dovrebbero essere comunque sempre abbastanza circoscritti e limitati ma questa è una mia considerazione personale non soffragata da ipotesi di valutazioni più approfondite che riserviamo di fare sicuramente è una considerazione che faccio anche io anche perché so benissimo sto facendo il 110% e quindi è ipercontrollato certo è che poi alcune derivazioni è difficile anche poi controllarle e capire bene quello che succede però volevo capire allora innanzitutto lei ha detto che il problema sono gli evasori della Tari e questo è vero nel senso che l'evasione della Tari mette comunque in ginocchio non solo dal punto di vista economico perché è mancato in Troido ma anche nel sistema di raccolta nelle grandi città soprattutto mette in crisi un sistema perché uno prevede la raccolta per X utenze quando in realtà sono molte di più e questo poi si vedono i secchi diciamo così stradivare però visto che i centri di raccolta le isole ecologiche perlomeno credo che in tutta Italia sia così sono dedicati solo all'utenza domestica e se io quando vado a portare un materasso qualsiasi un ingombrante in un centro di raccolta non è che mi chiedono non so se è un'anomalia o un caso non mi chiedono nemmeno il nome cognome se ho pagato la Tari quindi forse questi evasori non credo che siano un problema in questo caso specifico probabilmente il problema più grande sono appunto queste piccole e medie imprese che spesso e volentieri non fatturano che poi hanno la necessità perché nei centri di raccolta non possono comunque andarci sono a nero quindi credo che il problema più grande sia questo ora noi come fino all'inchiesta diciamo che è la prima volta che una commissione si occupa di un tema che è molto complesso quindi faremo questo tentativo di fotografarlo per lo meno e capirlo il più possibile e cercare di trovare eventuali soluzioni ecco perché ripeto è importante se potete fare appunto informazioni o raccogliere informazioni dai vostri utenti per capire meglio il fenomeno e magari possiamo fare una cosa utile nel senso una fotografia utile che magari mai nessuno mai nessuno ha fatto io penso che sia un dovere farla e per esempio per quanto riguarda invece i RAE e poi sentiremo anche appunto tutti i vari consorsi dell'elettronico com'è la situazione secondo voi dal punto di vista allora sui piccoli sui piccoli RAE nessuno sa ne abbiamo fatto noi la legge quella dell'1-0 che uno in teoria anche senza comprare un altro telefonino un altro piccolo oggetto può andare dal centro che vende elettronica e riconsegnarlo e loro si dovranno poi occupare dello smaltimento questo è una legge che abbiamo fatto noi ma pochi la sanno andrebbe forse pubblicizzata e sensibilizzata maggiormente ci sono delle scritte piccoline sul bancone in certi grandi centri che vendono elettronica perché comunque per loro è comunque un peso è una fatica spesso noi siamo a conoscenza di indagini fatte anche dalle polizie giudiziarie che insomma spesso anche queste grandi catene hanno una gestione così di questo materiale un po' non sempre molto trasparente e molto tracciabile per quanto riguarda invece i grandi RAE che possono essere non so i condizionatori fotovoltaici che adesso sono un po' di anni che c'è stata un'esplosione questo materiale tra un po' se non già adesso cominceranno i primi smaltimenti e saranno sempre di più da questo punto di vista cosa può mancare secondo voi cosa manca e cosa si dovrebbe insomma organizzare cosa c'è che non funziona che potrebbe non funzionare faccio alcune considerazioni sul tema dei RAE poi se mai cedo la parola al collega Luca Mariotto per entrare nel merito della prima parte del suo intervento presidente quando faceva riferimento agli evasori tari e ai centri di raccolta sui RAE abbiamo avuto modo di parlarne anche di recente con il CDC RAE così come con ERIO nel nuovo consorzio nato dalla fusione di due precedenti consorzi che si occupa della raccolta dei RAE sicuramente vanno rinnovate le campagne informative come diceva giustamente lei uno contro zero e i piccoli RAE sono ancora poco conosciuti nonostante sia un'opportunità già presente in alcuni anni dal punto di vista normativo e quindi sotto questo profilo vanno rinnovate delle campagne anche di carattere nazionale che in qualche modo si incrocino con le attività di informazione che le aziende di gestione fanno sul territorio immaginiamo tutte le varie app che tante aziende hanno su dove conferire un determinato rifiuto in maniera tale che il cittadino abbia la possibilità di avere un'informazione pronta e disponibile e sia sensibilizzato secondo aspetto prima abbiamo citato i piccoli RAE sicuramente bisogna pensare a forme di raccolta ulteriori rispetto a quelle tradizionali che appunto sono quelle dei centri di raccolta quindi le scuole quindi i supermercati quindi i vari punti vendita e con anche rispetto a questo è necessaria un'informazione per spiegare al cittadino dove può trovare un contenitore dove conferire questa particolare tipologia di rifiuto e bisogna riuscire a vincere la resistenza del cittadino a buttare il filo di rame il filo elettrico di rame il moncone del filo elettrico di rame nel bidone dell'indifferenziato perché anche quello ha un valore se riciclato rispetto ai grandi RAE ci sono vari interventi da fare il primo come dicevo prima è rendere più capillare il sistema dei centri di raccolta che rimane diciamo la struttura più importante che dà i maggiori risultati probabilmente anche stabilire individuare ulteriori servizi di raccolta per esempio in alcuni casi ci può essere la situazione di la necessità da parte di un utente di avere un servizio domiciliare quindi in tante realtà ci sono dei servizi domiciliari di raccolta su chiamata perché casomai non è in grado di accedere al centro di raccolta appunto e poi bisogna attivare alcune iniziative di verifica e di contrasto perché alcuni RAE probabilmente sono affidati al di fuori dei corretti circuiti pensiamo in particolare alle lavatrici che tipicamente possono essere di interesse anche di coloro che gestiscono i rottami ferrosi mentre correttamente andrebbero gestiti appunto come come RAE questi sono un po' come dire alcuni alcuni spunti per quanto riguarda invece i temi evasione tari chiederei a Luca Mariotto di intervenire per completare diciamo le considerazioni che ho già fatto prima sì buongiorno mi sentite mi sentite sì buongiorno a tutti allora rispetto alla sua osservazione in effetti per quanto è la mia esperienza e per quanto può essere insomma la 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 sono adottati generalmente a livello di accesso agli ecocentri è abbastanza tipico che non venga fatta una verifica della posizione dell'utente che conferisce all'ecocentro se non proprio come dire l'iscrizione a ruolo e il pagamento dei datari almeno l'identità e la provenienza anche perché banalmente un un ecocentro è a servizio a meno che non siano ecocentri solracomunali di un solo comune e quindi il costo di gestione di quella della struttura va a carico degli utenti di quel comune e quindi per questo generalmente gli ecocentri verificano sempre almeno la la l'identità del dell'utente questo tra l'altro è anche spesso messo nelle prescrizioni autorizzative degli ecocentri nel senso che molte regioni rispetto alla gestione degli ecocentri prevedono il riconoscimento dell'utente e la tenuta di un registro di accesso sia per gli utenti domestici che gli utenti domestici nel caso in cui c'è stata un'automazione dell'accesso agli ecocentri magari attraverso la carta di servizio o la testa sanitaria è anche più facile fare anche una verifica di quella che è la posizione Tari e questo lo dico anche personalmente perché nell'esperienza dove ho operato professionalmente questo veniva fatto quindi sicuramente questo è un dato di partenza e l'opportunità dei fondi del PNRR per anche elementi di innovazione nella gestione della raccolta rifiuti potranno dare anche risorse per sviluppare sistemi di accesso agli ecocentri in grado di verificare questa situazione diciamo che l'aspetto legato all'eruduzione e all'evasione Tari è un aspetto che mi sentirei di dire vado a sfiorare la psicologia della persona e cosa cosa intendo dire intendo dire che una persona che come dire ha un approccio spregiudicato rispetto a corretto al civismo magari associa il mancato pagamento della Tari anche a un comportamento come può essere l'abbandono del rifiuto in strada non tanto per una mera questione economica ma perché probabilmente trova poco come dire non trova gli orari dell'ecocentro abbastanza larghi o comunque trova scomodo magari semplicemente essere vincolati a utilizzare il servizio pubblico quindi trova più comodo abbandonare il rifiuto in area pubblica questo è un aspetto diciamo di decilismo non è una questione strettamente economica cioè io sono convinto che una famiglia che ha dei problemi a pagare la Tari per problemi di bilancio familiare però siano i primi anche rispetto a un territorio non abbandonerebbero mai il rifiuto per strada quindi le due cose sono alle volte collegate ma insistere molto sul civismo quindi non necessariamente siamo e sono convinto che l'offerta di un servizio comodo sia sufficientemente comodo per quella parte di diciamo quella parte di utenti che comunque sono i sofferenti di qualunque cosa che vada un po' vincolare la propria libertà di movimento e di espressione però comunque tornando a sua domanda credo che che il riconoscimento e l'accesso agli ecocentri sia come dire doveroso da parte dei comuni per una verifica e un controllo di questi accessi poi dal punto di vista ecco se posso integrare quello che diceva il presidente Brandolini rispetto anche ai RAE sicuramente l'uno contro zero è importante è poco è poco conosciuto però come dire in questo in questo mondo le cose vanno avanti più velocemente di quanto siamo come dire in grado spesso di fare fronte quindi esiste la vendita online esistono ormai sistemi di 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 acquisto che vanno al di là di quelle che sono i tradizionali soprattutto per i piccoli RAE che poi da un punto di vista ambientale hanno una pericolosità proprio per i componenti comunque elevata quindi da questo punto di vista studiare soluzioni che permettano di intercettare questi quantitativi questi materiali sono assolutamente essenziali io ricordo che comunque il centro di coordinamento orario aveva anche attivato dei dei canali di raccolta per esempio ricordo l'iniziativa di raccolta di RAE nelle scuole cioè quindi di andare a semplificare quanto più possibile il servizio fatto ai cittadini bisogna forse bisogna lavorare di più e sicuramente le aree metropolitane sono quelle più delicate perché almeno la nostra visione del paese che dove la raccolta è più strutturata e i risultati sono come dire più sono migliori dal punto di vista dei numeri della qualità differenziata tutto il complesso della gestione rifiuti dall'atto abbandono è sicuramente migliore quindi diciamo che una buona qualità dei servizi è un elemento indispensabile e un volano per migliorare quello che poi è anche il comportamento dei cittadini bene grazie certo è sacrosanto voler controllare l'identità e la situazione in un centro raccolta però c'è anche da dire che più si controlla e più poi si favorisce quello che non sta in regola e quindi per evitare rischi o per evitare di di essere segnalato come irregolare diciamo così o moroso eccolo lì che gira l'angolo e sverza al primo parcheggio utile è sicuramente una tematica molto complessa quindi io chiedo appunto se possiamo attraverso le segreterie rimanere in contatto e provare con il vostro aiuto appunto di avere qualche dato cerchiamo di capire bene nel senso magari in qualche centro urbano significativo non so Milano Roma Palermo Napoli e cercare di capire insomma qualche numero per per capire avere qualche numero in più per capire meglio il fenomeno chiaramente siamo a disposizione ci attiveremo sperando di non incappare nel periodo delle vacanze dei nostri interlocutori ma in qualche modo faremo e poi vi comunicheremo quanto prima questi dati ok grazie 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 tante allora ci ci aggiorniamo a presto buon lavoro grazie buon lavoro a voi grazie grazie grazie